che cosa avrebbe raccontato il mio editore youtube sugli alti scalini del convento provo una spiacevole sensazione forse la sua religione non era più la sua per cui lui non ne dipendeva più era una situazione difficile se non credeva più all'organizzazione che lo manteneva che fine avrebbe fatto la sua carriera di prete che cosa avrebbe raccontato ai fratelli che nel suo paese lo avrebbero guardato con i loro volti forti e astuti doveva tornare all'ossequio dell'organizzazione adottare comportamenti consoni a un prete che deve pensare solo da prete si accorse di seguire pensieri prosciugati decise di abbeverarsi alla nuova filosofia che era entrata nella sua anima e giungeva da maestri era possibile che si esprimevano attraverso grandi medium sì maestri che erano stati ciò che lui era adesso e per questo erano maestri subito il suo pensiero si avventò dentro una saggezza superumana una notte in cui non riusciva a dormire don mario si era collegato per caso a questa saggezza superiore aspettava il sonno e navigava in internet quando si imbatte in youtube il motore di ricerca che pubblica video di ogni parte del mondo abbinato a una foto e letto da una voce che non aveva nulla di professionale don mario ascoltò questo testo sempre più attentamente la voce diceva noi vi ripetiamo figli abbandonate voi stessi ciò che vi siete costruiti per costruirvi sempre nuovamente questa è la legge morite a voi stessi e vi accorgerete che le domande che ci ponete sono infondate noi non vi esortiamo a tacere ma ad essere nuovi rispetto al nostro insegnamento che non è una serie di regole alle quali dovete obbedire e se non lo fate ritardate la vostra evoluzione la ritardate molto di più facendo tutto quello che avete fatto dopo aver ascoltato il nostro insegnamento ed essendone quindi consapevoli infatti di quello che facevate prima del nostro insegnamento non eravate consapevoli e quindi eravate meno responsabili di adesso